Buongiorno, io sono Elena Volpato, conservatore e curatrice alla GAM di Torino, sono qui con Flavio Favelli con il quale abbiamo elaborato un progetto per il bando ministeriale Piano per l'arte contemporanea che abbiamo felicemente vinto e proprio due giorni fa abbiamo inaugurato in GAM la mostra ai maestri seriorio. A me piacerebbe che iniziasse Flavio raccontando come è nata l'idea del progetto e come ci ha lavorato. Io ricordo molto bene questa serie appunto infinita, adesso poi abbiamo scoperto che uscì settimanalmente in vari anni, quindi proprio una raccolta infinita di più di 278 numeri più gli indici, quindi veramente una collezione molto molto estesa. Me la ricordo perché era semplicemente bella, bellissima, aveva questa immagine di copertina di una grande opera, spesso un frammento di una grande opera e poi c'era questa dicitura, i maestri del colore e poi c'era a destra c'era il nome del maestro appunto. Io l'ho ripresa anni fa, ho pensato che volevo sempre farci questo progetto, a me piaceva che fosse così questa grande collezione e quindi poteva venire una grande opera di 278 parti appunto. E siccome da tanti anni faccio questi collage con le carte di cioccolatini che mi sembrano oggetti apparentemente effimeri, il loro uso è quello di appunto di incartare e anche imbellettare la pralina e poi semplicemente quando si mangia il cioccolatino si appallottolano e si buttano. E siccome spesso e volentieri sono carte di alluminio hanno questi riflessi con vari colori per impreziosire appunto il prodotto come se fosse appunto un incarto con sete variopinte e colorate. Allora ho pensato che l'incontro fra questa carta di cioccolatini ovviamente ho scelto il tono oro e in particolare delle praline della Ferrero Rocher si prestava bene a fare un intervento anche un po' diciamo audace al limite dell'offensivo a volte su questa grande collana e quindi sono intervenuto in diversi modi su ognuno di questi fascicoli. Sono stati messi in cornice e adesso nella Wunderkammer della gamma sono stati esposti tutti quindi c'è questa grande visione d'insieme che così per fare capire la grandezza della collezione e poi è interessante vederli insieme perché si vedono i diversi interventi su ogni immagine che sono frammenti e quindi si ha in un colpo d'occhio fra l'altro anche tutta una visione della grande arte della storia occidentale. Una cosa che mi ha interessato sin dall'inizio del tuo progetto è che è un'opera che ha un rapporto se vuoi individuale con i singoli fascicoli per cui era importante anche realizzare il libro per dare la possibilità poi quasi di una fruizione meditativa su ogni copertina perché ogni copertina reagendo a quello che tu hai fatto inserendo questi frammenti dorati queste cartine della Ferrero Rocher fa sì che accadono alcune cose per cui ogni copertina in realtà ti spinge ad osservare e riconsiderare dei dettagli che magari non avresti altrimenti considerato. E però dall'altro è un progetto che ha una grandissima valenza installativa perché usciti dal libro e messi invece in una situazione di spazio ambientale queste tre linee di disposizione dei collage creano una specie di basilica di spazio sacro a me è venuto in mente lo studiolo Urbinate dei Montefeltro perché è tutto attorno allo studiolo c'è questa teoria di ritratti di uomini illustri e mi era perso che questo tuo progetto potesse in qualche modo essere un grande ritratto universale dei nomi illustri della storia dell'arte proprio nel momento in cui veniva proposta per la prima volta al grande pubblico. Quando Roberto Casiraghi ci ha invitato qui a fare questa conversazione ho trovato che fosse in realtà molto azzeccata questa sua intuizione perché pur essendo un lavoro di un artista che non è un fotografo e pur essendo un lavoro che tecnicamente noi non possiamo che chiamare collage in realtà ha molto a che fare con la storia della fotografia perché è una delle ragioni per cui il tuo ricordo personale di quegli anni è quello che ha potuto rappresentare la raccolta dei maestri del colore all'interno della tua famiglia insomma la prima edizione finisce nel 67 che è l'anno della tua nascita ecco però questi maestri del colore non sono stati una storia esclusivamente tua hanno davvero attraversato l'immaginario di famiglie e famiglie italiane che per la prima volta acquistavano dei libri d'arte, dei fascicoli d'arte o dispense come le chiamavano allora e per la prima volta la fotografia, la riproduzione a colori di opere d'arte in fotografia aveva finalmente una qualità attendibile insomma fino a poco tempo prima gli storici dell'arte si rifiutavano di studiare le riproduzioni artistiche a colori perché in genere il colore tradiva quella che era la sensazione effettiva dell'originale ma finalmente i fratelli Fabri facendo questa campagna incredibile di scatti di fotocolore nei più importanti musei europei e mondiali perché si mossero tra la Cina, gli Stati Uniti, l'America del Sud non per i maestri del colore ma per le tante altre collane di fascicoli che loro pubblicavano e hanno formato un patrimonio documentario incredibile e l'hanno resa, lavorando sui grandi numeri, l'hanno resa fruibile a tutta una fascia di popolazione che in quel momento viveva il sogno del boom economico italiano però siamo nel pieno afflato della rinascita economica del paese Italia e questi fascicoli sono diventati uno status symbol tutto questo in qualche modo potrebbe sembrare una scelta celebrativa da parte tua se non fosse che appunto c'è una bellissima contraddizione in quello che tu hai fatto nel senso che scegliendo loro stai quasi impreziosendo queste immagini, questi libri però dall'altra parte nascondi parte dell'immagine per cui ha una grande inquietudine che deriva dal fatto che qui abbiamo un gesto in qualche modo censorio che si unisce a un gesto in cui io ho visto una specie di cura di attenzione, di protezione, a me immediatamente sono venuti in mente i quadratini di carta di riso che è l'operazione della velinatura che i restauratori fanno sulle opere d'arte per andare a proteggere la parte più debole dei dipinti, quelle dove si rischiano delle cadute e in effetti riflettendoci mi è parso che quello che tu sei andato a fare è una sorta di protezione dalla sovraesposizione, dalla ipervisibilità che alcune di queste opere, alcune di queste copertine hanno effettivamente subito nel tempo di ricostituzione di una sorta di aura mi è piaciuto così chiudere il testo pensando che questi quadratini dorati fossero dei quadratini, dei piccoli frammenti di aura restituiti al valore delle opere d'arte e dall'altro è un gesto di liberazione perché queste copertine dovendo vendersi all'interno delle edicole venivano scelte, soprattutto si sceglievano i ritratti perché dovevano ammiccare al compratore dovevano instaurare un rapporto di seduzione ecco mi piaceva l'idea che tu liberassi le opere da una funzione forzata da un obbligo di piacere a tutti i costi e facendo questo in realtà hai mescolato le carte per cui in alcuni fascicoli davvero noi scopriamo degli aspetti che non erano così evidenti quando tu vedi l'opera nella sua totalità ma che diventano evidenti proprio attraverso un processo di privazione Sì, no, è vero anche perché quando mi sono trovato davanti alle persone quindi ai ritratti, ai volti ho sempre mantenuto questa pratica dell'oscuramento del volto però quando invece non c'erano i ritratti che forse direi che è la quantità minore invece ho cercato di rapportarmi con l'immagine in modo sempre differente sfruttando certe linee certe composizioni il cielo, il paesaggio creando anche nuove forme, figure ed immagini fra l'altro adesso mi è venuto in mente hai tirato fuori questa parola che sono gli uomini illustri e mi viene in mente che io ho fatto una serie di collage con questi francobolli che erano proprio una serie degli uomini illustri e poi quando ho allestito ho pensato e ho allestito la sala d'attesa alla Certosa di Bologna il Pantheon era dedicato agli uomini illustri c'erano questi busti di scultura degli uomini illustri bolognesi e quindi anche forse anche appunto compreso compresa questa pubblicazione questa lunga serie di uomini illustri forse anche è un modo per dare per cercare di vedere da un altro punto di vista e diciamo queste forti presenze che spesso sono così fondamentali in certe società e che fanno parte appunto del Pantheon diciamo culturale delle immagini di ogni cultura quindi insomma credo anche uno dei compiti uno dei compiti dell'arte sia appunto andare a mettere le mani in questi diciamo attorno a questi uomini illustri bene allora invitiamo tutti a venire a vedere la mostra alla GAM di Torino e a sfogliare il libro che è davvero insomma una parte del lavoro del progetto di Flavio Favelli grazie 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 a voi grazie a voi